bene smitraglia smitraglia ora PAM su una mina eh ci vorrebbe una musica epica in questo momento ma poi ci tagliano l'audio su switch eccolo 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 ma dov'è il piccota? ah ok oh ha un anticarro mi sa il no c'è qualcuno che ha chiamato l'artiglieria beh l'ho visto è alla nostra sinistra dietro quegli alberi eccolo la destra è alla nostra destra eccolo eh si 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 lascia granate ma cazzo ma è una torretta giragli gira girala girala è dietro di te lia nooo eccolo eccolo nooo ce l'abbiamo fatta anche perché non abbiamo più le ruote quindi tutti giù tutti giù ok è finita ce l'abbiamo fatta siamo bibi siamo bibi non c'è niente un premio qualcosa si eccolo che arriva bene avete per caso una chiave inglese bene è arrivata la sorpresa teak